E si inaugura anche qui giorno 26 luglio prossimo ad Alcamo lo sportello provinciale trapanese dedicato a quanti quotidianamente convivono con la fibromialgia. Ascoltiamo le consigliere comunali alcamesi, Annalisa Guggino e Mari Cagliace. Il gennaio abbiamo organizzato il convegno sulla fibromialgia e lì c'eravamo promessi di poter aprire uno sportello ascolto ad Alcamo. Insieme alla collega Mari Cagliace oggi abbiamo raggiunto, sarà messo a disposizione della provincia di Trapani. Informazioni, poter confrontarsi, troveranno i volontari dell'associazione AIF che si occuperanno di accogliere i pazienti e di dare tutte le informazioni di cui hanno bisogno. La burocrazia ha i suoi tempi, si poteva fare qualche mese prima, il caldo e l'estate non ci ha fermati. Invito a partecipare tutti coloro che sono interessati a questa patologia, ad intervenire giorno 26 luglio alle ore 17 in via Opera Pastore. Ognuno di noi potrà avere qualcuno di cui ha bisogno, magari che resti o a presentarsi. Di conseguenza si può fare carico un familiare, un parente, un amico, venire, ascoltare e portare le notizie che possono servire. Lo sportello di ascolto sarà gestito dai volontari dell'associazione AIF, l'associazione nazionale che riguarda la patologia della fibromialgia. Saranno presenti una volta a settimana, ci sono offerti disponibili. Sarà nostra premura il giorno dell'inaugurazione, insieme a loro comunicare la giornata di apertura, nonché la fascia orraria nella quale chiunque avrà bisogno potrà appunto avvicinare e cercare di avere le informazioni che più necessita. Questa patologia è un po' rappresentata da quella frase, da quella locuzione che appunto dice mai più invisibili. Lo sportello di ascolto nasce proprio come punto di riferimento per tutti coloro che soffrono di questa patologia proprio per far sì che non si sentano più soli e marginati perché spesso all'interno della famiglia, della società, del lavoro non si viene capiti e quindi spesso si pensa che sia soltanto frutto dell'immaginazione il dolore che si vive. Con la collega Guggino ci tenevamo a ringraziare anche il Consiglio Comunale che il 15 febbraio 2023 ha approvato all'unanimità la mozione di indirizzo che abbiamo appunto redatto e presentato e che abbiamo sottoscritto e che grazie alla quale ci ha permesso poi di arrivare a questo obiettivo finale. Abbiamo seminato e abbiamo a questo punto raccolto.